Ciao i quaddisti ed eccoci nuovamente, pensate un test di un quadriciclo? Assolutamente no, proseguo test di panza, ma siamo a dieta, quindi siamo stati bravissimi, vediamo la nostra tester Giangi, tagliatina spettacolare, guarda, dieteticissima questa tagliatina qua, guarda, guarda che spettacolo, ruccolina, cioè incredibile, tigelline fatte a mano in casa in osteria, cioè va che tigelle ragazzi, guarda che tigelline, guarda, 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 adesso arriverà il lardino da spalmare, cioè spettacolo e dulces in fundo, siamo a Modena gnocco fritto, l'ambruschino di Grasparossa, spettacolare, molto secco, quasi acido, è lui, è l'ambruschino, ragazzi con questi cibi si può assaggiare questo l'ambrusco di Grasparossa, se ci provate a berlo con un cibo stupido, che ne so, un hamburger, una schifezza, è veramente, sarebbe veramente penoso, con i cibi locali spettacolari, cioè qua, ma qua siamo al top, tester Giangi, tester Giangi, ci dica, ci dica, non so, mi devo sacrificare, so che vogliamoci, signora Giangi, lei era dieta qui, allora, l'ambruschetto scioglie i grassi, la tagliatina elimina gli zuccheri, la rucolina fantastica, il limone non può essere che buono, e sulle tigeline gnocco fritto abbiamo commenti? Ripeto, qualcuno si deve pure sacrificare, esatto, ma sacrificiamoci noi e salviamo gli utenti che questa sera mangeranno hamburger, hamburger, nella migliore delle ipotesi, e ci sono anche i risottini liofilizzati, quelle cose lì, mamma, oddio, 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 stiamo male, da quadisti.it, dal ferro della Giangi, spettacolare, spettacolare trattoria a me, ma che roba, ma che roba, ma che roba nel modenese, mamma mia, un bacio ragazzi, un bacio!